Adolfo Marino, PandoraTV.it L'aereo di linea MH17 della Malaysian Airlines sarebbe stato abbattuto da un Sukhoi 25 dell'aviazione militare ucraina. Lo ha riferito al quotidiano russo Komsomolskaya Pravda, un militare in servizio nella base aerea di Dnepropetrovsk, in Ucraina orientale. Nel pomeriggio, circa un'ora prima dell'abbattimento del Boeing, erano decollati tre bombardieri. Non ricordo l'ora precisa. Un aereo era dotato di missili aria-aria. Era un Sukhoi 25, ha detto la fonte rimasta anonima. L'audio delle dichiarazioni del testimone oculare è stato diffuso dal canale televisivo russo Rossia 24. Quel giorno sarebbe rientrato alla base solo un aereo militare, mentre gli altri due sarebbero stati abbattuti. Stando al racconto del testimone oculare, il Sukhoi 25, al rientro alla base, non aveva più le munizioni, e il pilota, Vladislav Voloshin, appariva molto spaventato. Aveva forse paura di essere punito per aver abbattuto il Boeing, confuso probabilmente per un aereo militare nemico, ha dichiarato la fonte. Il militare ucraino ha inoltre raccontato che i missili del Sukhoi 25, in precedenza disattivati, una settimana prima dell'abbattimento dell'MH-17 erano stati rimessi in funzione con urgenza. Il militare ucraino non esclude che il pilota possa aver confuso il Boeing con un caccia. La distanza era grande, non era in grado di vedere esattamente che tipo di aereo fosse, ha dichiarato, spiegando che questo tipo di missili ha una gittata che arriva fino a 10 chilometri. Il Boeing 777 della compagnia aerea Malaysia Airlines, partito da Amsterdam e diretto a Kuala Lumpur, si è schiantato il 17 luglio nei prestiti di Donetsk. Nessuna delle 298 persone a bordo è sopravvissuta al disastro. Adolfo Marino, PandoraTV.it, con la collaborazione tecnica di Santiago Martinez di Aguirre. Grazie a tutti.